Vince anche in trasferta e resta a punteggio pieno il Montesivano e lo fa in rimonta nell'incontro di cartello di Colonia Paese. Recriminano i padroni di casa per l'episodio chiave del primo tempo, costato un rigore contro ed un'espulsione. Una novità per Ronci, il rientro tra i pali di Recchiuti, confermati gli altri dieci che hanno espugnato Martinsicura all'esordio. Datomir cambia invece due elementi rispetto all'undici antiluco di Nicola in tribuna, Antenucci in panchina, a loro posto Torre e Fazzi. Partita interessante sin dai primi minuti, al secondo l'ex Andrea Francia scuote la traversa, c'è anche un tocco di Recchiuti. Stornione all'inizio, il Colonia passa al primo a fondo, il rilancio di Di Filippo si trasforma in un assist per Johnny Gianzante, con la retroguardia ospite mal piazzata in uscita e Gianzante non dà scampo a Freddi, 1-0 al tredicesimo. Gioia che dura appena 7 minuti, contatto al limite dell'area tra Pinto e Torre. De Remigis di Teramo con qualche secondo di ritardo fischia la massima punizione su segnalazione dell'assistente e poi espelle Pinto per gioco scorretto, da chiarire entità e posizione del contatto. Recchiuti si oppone al rigore dello stesso Torre, ma nulla può sul tapin di Francia. Cologna in 10 e Ronci inserisce Aurini per Gianzante. La gara si incattivisce intorno alla mezz'ora, i padroni di casa reclamano per l'atterramento di Ferrandina ad opera di Palantrani. Al trentacinquesimo il solito Francia si gira dal limite, ma tira alto. Il Cologna non disdegna sortite offensive, Colancecco non arriva sul cross di Panico. Al trentottesimo Freddi sventa il colpo di testa di Ferrandina da posizione ravvicinata. La ripresa si apre con l'affondo di Panico al settimo, ma l'esterno non trova compagni al centro. Dopo aver inserito Antenuccia ad inizio ripresa, Tatomir indovina anche l'ingresso di Vespa al nono. E come sette giorni fa il fantasista ci mette poco ad essere decisivo. Passa un minuto e disegna l'assist proprio per l'altro neo entrato, Antenucci, che supera recchiuti di giustezza. E' il gol che decide la partita. Il Montesivano, forte della superioreta numerica, gestisce senza affanni la partita. Il Cologna è stanco e non riesce ad alzare i ritmi del gioco. Ci prova Ferrandina al ventottesimo. L'ultimo sussulto è di marca ospite alla mezz'ora, ma Antenucci vanifica clamorosamente lo spunto di De Filippis. Nel recupero da rimarcare anche l'espulsione di Ippoliti. Il Cologna chiude in nove e domenica Ronci avrà una difesa da inventare. Io della prestazione della squadra sono contentissimo perché abbiamo giocato contro una delle squadre per forte camionato. Fino a che eravamo in partita numerica abbiamo fatto bene bene, abbiamo fatto un gran bel gol. E poi niente, oltre al rigore, oltre al danno, pure la beffa. Perché non posso pensare che un difensore volontariamente dia un pugno in faccia a un avversario. Quindi vuoi dare il rigore, ok. L'espulsione ammonisce al massimo e finisce così. Non puoi compromettere una partita dopo dieci minuti. Noi sappiamo di essere un gruppo importante. Purtroppo non possiamo esprimerci fino in fondo per i problemi che tutti voi sapete. Perché una squadra che vuol vincere un campionato deve avere quantomeno una struttura per potersi allenare. Noi siamo in emergenza da un mese. Stiamo cercando di affrontarla nel migliore dei modi. Per il momento i risultati vengono, mascherano un po' tutto. Quindi un grande applauso va a questi ragazzi che stanno facendo dei sacrifici enormi dal 29 di luglio. Grazie a tutti.